Kenyaman sorprende di nuovo le fan, la nuova iniziativa e per l'ennesima volta Kenyaman ha lasciato tutte le sue sostenitrici a bocca aperta Chi lo segue sa perfettamente che il 32enne turco è noto per sorprendere con delle iniziative tutti coloro che lo seguono In questa circostanza però, il gesto del protagonista maschile di Daydreamer leali del sogno non ha nulla a che vedere con tutto questo? Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto Il divo turco disattiva il profilo Instagram Mania nel dettaglio, Kenyaman ha letteralmente sorpreso tutte le sue sostenitrici, nonché seguaci di Instagram disattivando improvvisamente il profilo dedicato al suo profumo, Mania Per quale ragione? La fragranza del divo di Istanbul, da poco lanciata sul mercato italiano e non solo, ha immediatamente riscosso un grandissimo successo, facendo in poco tempo sold out Ora, invece, ci si chiede per quale motivo il protagonista di MR Wrong Lezioni d'Amore abbia voluto chiudere l'account, lasciando i suoi fan letteralmente sconvolte Cosa c'è dietro a tale scelta? Il clamoroso gesto da parte di Kenyaman è stato del tutto improvviso e i seguaci di quest'ultimo non si capacitano dei motivi che abbiano spinto il divo turco a disattivare momentaneamente l'account Instagram Mania, su cui l'attore d'altronde non si è ancora pronunciato Lo farà nelle prossime ore. Staremo a vedere. Nel frattempo l'ex fiamma di Diletta Leotta è impegnato a Roma sul set della serie TV per Canale 5, Viola come il mare Al fianco dell'attore la collega siciliana Francesca Chillemi Al fianco dell'attore la collega Al fianco dell'attore la collega